Allora, ho questo foglietto qui a fianco perché mi sono scritto dei dati che non riuscirei a ricordarmi che traducono in cifre la fredda cronaca delle prime due partite giocate da Grigento ovviamente dal nostro punto di vista perché è chiaro che l'interpretazione che do io delle due partite verte sostanzialmente sulla mia squadra mentre sicuramente Franco Ciani ve ne darebbe una diversa dalla mia perché lui la guarda da una prospettiva differente. In gara 1 Grigento tira 11 su 21 da 3 punti tenendo conto che piazza fa 0 su 6 escluso piazza 11 su 15 quindi credo vicino allo 70-80% In gara 2 tira 2 su 19 cioè l'11% In gara 1 Grigento fa 5 palle perse, in gara 2 ne fa 16 In gara 1 noi prendiamo 23 rimbalzi, in gara 2 ne prendiamo 34 E questi dati riassumono in qualche maniera le due partite e la nostra stagione Una stagione nella quale quando ci siamo connessi abbiamo giocato una palacanestro molto importante di grande qualità sui due lati del campo quando invece non ci siamo connessi siamo stati una squadra modesta Ieri rientrando a Bologna rispetto a questa situazione qua pensavo al mio status di genitore di due figli cresciuti all'interno dello stesso ambiente con gli stessi diciamo così precetti educativi con la fortuna di avere una madre di grande qualità padre un po' assente ma e a fronte degli stessi insegnamenti io ho un figlio grande che è una spada da quando aveva due anni e che ha sempre fatto tutto al massimo delle sue possibilità anche forse avendo in certi aspetti della vita una dose di talento leggermente inferiore a quelle fratello più piccolo il quale è il tipico ragazzo di cui in qualsiasi ambiente tu li parli ti senti dire da chi si occupa di lui a grandi qualità se si impegnasse un po' di più farebbe meglio e questo quindi il quid la domanda che ci si pone quotidianamente io e mia moglie così come io e i miei collaboratori è come accendere questa scintilla e se dipende da noi l'accensione di questa scintilla soprattutto in una competizione così sentita come i playoff perché non mi nascondo che in gara 1 io anche per non esasperare una situazione che era già piuttosto complessa io dell'aspetto motivazionale mi sono occupato zero perché mi sembrava che offendere l'intelligenza dei miei giocatori ad enfatizzare da un punto di vista emozionale l'ingresso nei playoff in una partita che già aveva così tanti contenuti tra la rivincita sul campo di una serie finita l'anno scorso sul 3-0 piuttosto che di alcune infelici dichiarazioni del nostro sponsor delle quali peraltro poi ha chiesto scusa e quindi anche questa è una cosa da apprezzare e là diciamo a questo punto l'augurio non la convinzione ma l'augurio è che a fronte della consapevolezza di come si possano vincere e perdere nell'arco di 48 ore partite contro la stessa avversaria la squadra ne sia consapevole il che di per sé non ci garantisce nulla perché Agrigento per accoppiamenti difensivi per caratteristiche di squadra per esperienza di alcuni suoi giocatori tra i quali Piazza e Evangelisti che anche qui se vi ricordate in gara 3 l'anno scorso fece una partita straordinaria non ci danno garanzie se non di essere una partita molto combattuta e molto incerta diciamo che per quello che mi riguarda affrontandola con l'atteggiamento che abbiamo avuto in gara 2 sarei molto più convinto di poter fare una buona partita di quello che abbiamo fatto vedere in gara 1 questa è un po' la sintesi di quello che sto pensando in questo momento ci sono alcuni aspetti positivi il primo dei quali che è un giocatore considerato per certi versi borderline fino all'anno scorso come Alex Ligio sceso da un viaggio oggettivamente complesso partiti alle 10 siamo arrivati sostanzialmente alle 8 di sera ha chiamato Di Poce in foresteria e ha fatto 500 tiri da solo e credo che questo sia un bel segnale da un punto di vista motivazionale quindi ci aspetto una partita difficile che mi auguro che la squadra l'interpreterà con lo stesso spirito con il quale è interpretato gara 2 se ci sono domande io sono qua Certo che ho parlato con l'italiano ci siamo abbracciati alla fine della partita perché quando si sta in squadre con rose lunghe cosa avrei dovuto dire a Marchetti che era fuori dai 12 qui le regole sono molto chiare e i patti sono chiari quindi non c'è nessuno che può diciamo così lamentarsi Rauci è italiano e di questo loro atteggiamento ho molto apprezzato la sincerità sanno che tra essere contenti per aver giocato 15 minuti in una partita persa ed essere stati seduti in una partita vinta è meglio stare seduti e vedere la propria squadra vincere ma io so e loro sanno altrettanto che domani piuttosto che dopo domani piuttosto che se dovessimo passare il turno in un'altra serie dove ci saranno altre esigenze di natura tattica squadre con esterni più alti probabilmente Matteo Montano giocherà di meno squadre con esterni più piccoli Matteo Montano giocherà di più squadre con lunghi grossi Nazareno giocherà di meno squadre con lunghi piccoli Nazareno giocherà di più noi siamo organizzati così lo sanno dall'inizio quindi non c'è non c'è nessun caso il campo grande ha fatto un grandissimo lavoro contro Bufford contro chiedo scusa contro evangelisti perché noi abbiamo cambiato le marcature abbiamo cambiato alcune cose tra gara 1 e gara 2 non sufficienti da giustificare un cambio di atteggiamento così significativo però abbiamo cambiato alcune cose tra le quali l'esterno in quintetto non dico nulla di particolarmente rivoluzionario quando dico che ormai quando noi partiamo con Raucci il difensore di Raucci sta tre metri dentro l'area rendendo oggettivamente complessa la manovra diciamo così con Campogrande non se lo possono permettere Luca in questo momento sta bene e contro contro Bufford contro evangelisti chiedo scusa nei primi 8-9 minuti ha fatto un lavoro molto importante così come Ligion ha pagato con una certa diciamo così difficoltà offensiva un lavoro difensivo che nella sua vita non l'ha mai fatto però ribadisco tra segnare 77 e prenderne 100 e segnare 57 e prenderne 51 preferisco di gran lunga la seconda anche perché è così che la squadra è stata pensata no 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 questo non lo so so che i giocatori sono no io siccome nello spogliatoio entro due volte l'anno diciamo in situazioni non ci vado mai so che i giocatori sono Daniele Cinciarini mi ha detto anche Mancinelli mi ha detto questo è un punto di vista di relazioni umane forse il miglior gruppo nel quale sono mai stati e stiamo parlando di due giocatori che hanno vissuto diverse esperienze nella loro carriera ma io con i giocatori sto il meno possibile a perché sono molto invasivo nella quotidianità lavorativa e b perché reputo giusto che nello spogliatoio i giocatori siano sereni nel poter pensare che sono una testa di cazzo senza per questo andare a essere pesante anche là insomma fa parte della della dialettica allenatore-giocatore di pensare che se non gioco è perché lui ce l'ha con me sono cose che succedono quindi io nella vita della squadra incido sto molto ai margini benissimo benissimo c'è stato solo Nazareno che è stato male di stomaco ha vomitato anche l'anima appena sceso dall'aereo a Bologna però stamattina hanno lavorato quelli che hanno giocato poco nei primi due turni per cercare per tenere in piedi la condizione lui ha fatto tutta l'ora e mezza di allenamento oggi pomeriggio ci alleniamo di squadra facciamo video alle 5 e mezza e paracanestro alle 6 quindi stiamo benissimo ma sul fatto che la squadra fisicamente sia pronta per giocare 10 serie di playoff e non 4 io ne sono assolutamente certo abbiamo fatto un lavoro forse addirittura migliore di quello dell'anno scorso dal punto di vista della programmazione della forma adesso si tratta ribadisco di connettersi di essere bravi a fare quello che non abbiamo mai fatto durante la stagione regolare come dicevo prima il vostro collega tedeschi Udine che non fa i playoff è riuscita a fare 6 vittorie consecutive che ha testimonio che non contano niente perché Udine i playoff non li fa noi si e non stiamo parlando di una squadra scarsa dal punto di vista tecnico però questo è il problema che noi abbiamo avuto dalla prima partita di precampionato come credo di aver detto proprio a te il saggio Cesare Pancotto dice sempre che come sarà una squadra tu lo vedi dalla prima amichevole di precampionato e noi in precampionato eravamo 20 avanti a 5 minuti della fine contro una discreta università abbiamo spento la luce abbiamo perso il supplementare consentendo tra l'altro un tiro sbagliato apposta tiro libero sbagliato apposta che si sapeva sarebbe stato sbagliato apposta concedendo un rimbalzo d'attacco concedendo un tiro da metà campo che di tabella è andato dentro e poi abbiamo perso il supplementare ed è per questo che io e tutto l'anno che sono in sofferenza perché so che abbiamo delle grandi potenzialità è come quello che dicono mio figlio Francesco a scuola delle grandi potenzialità espresse a intermittenza diciamo guarda ho saputo l'altro giorno un episodio un giocatore che hanno loro che è molto interessante questo De Laurentiis dopo un campionato importantissimo una grande serie finale con Verona due anni fa arrivando da da una B2 abruzzese si vide offrire da Verona un contratto importante rifiutò per restare con Franco Ciani questo mi preoccupa il fatto che il nucleo non è un caso che Franco abbia finito gara 2 per cercare di vincere l'assenza dei americani però con Chiara Stella con De Laurentiis con evangelisti perché una delle grandi qualità di Ciani oltre ad essere un eccellente allenatore ma gli schemi li sanno fare tutti e di essere una persona di grande qualità per il quale i giocatori giocano e questo è un elemento particolarmente significativo arrivederci arrivederci grazie a tutti